Siamo a tutti ragazzi, benvenuto a questo nuovo video, io sono King, oggi siamo su questo video sulla nuova serie, sul nuovo gioco al di fuori di WWE, di FIFA e di Fortnite oggi porterò la serie completa di The Last of Us, questo è il primo episodio, spero che vi piaccia e che lo vedrete, adesso ho saltato la parte iniziale e mi dispiace, fa vedere solo che il padre dorme a lavoro, trova lei, la saluta, lei gli fa regalo e va a dormire, questo è stato già il concetto che non ho registrato però, che purtroppo c'è stato il problema che non non ho registrato, quindi ho dovuto rifare tutto da capo e ho una fura fottuta che, diciamo, ho registrato tutto per niente, comunque il telefono funziona, non ho giusto quello controllo e devo andare direttamente giù perché lì c'è il bagno, vado dritto al sodo, così, sto tranquillo, qui dentro il padre non c'è, però noi andiamo per prassi, facciamo finta che non ho visto niente, secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività a quanto pare alle nostre spalle il sacco c'è, aspetta, arriva prima sulla tv e poi nella vita reale, cossi, si sta cagando sotto Sara, papà dio stanto aiutami, devo rifarmi tutta quella strada, mi scoccio, però ammelo così, no, salta dal divà, mi sono dimenticato già di questo passaggio, è lo zia Tommy, chiamami, sto arrivando, c'è proprio chiamami, ok? ok, 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 tranquillo, sono bellissimo, guarda, 1, 2, 3, jumpscare, ecco qui, Sara, stai bene? Sì, è entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte, te, resta indietro! Papà, mi stai spaventando, che succede? Sono in recupero, c'è qualcosa di strano, forse sono malati? Come malati? oh, porca tratta, non sapevo però, mi sto credo sotto lo stesso, muori stronzo, fuggi, fuggi, cavano del west, mi hai spaventato, l'ho visto stamattina, ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto, dobbiamo andarci da qui, mi hai capito? Sì, sì, tommi, dai, dovi? Dove chiamolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea, porca troia, sei coperto di santo! Sì, non è mio, dobbiamo darcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie tutta razzisa. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara, come va piccoli dai? Sto bene. Ascoltiamo la radio? Sì, certo. Grazie. Menti cellulare, menti radio, va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto in via, dai. Ha detto... che l'esercito sbarra l'autostrada. La quantità di Travis è necessaria. Significa che dobbiamo andarci. Prendi il setto al tuo. Sono andato là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a prezzi in casa. Già. Scusa. Merta, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. In silenzio perché capisco, voglio far vedere la porta finestra. Cioè, mentre parlo. Quella è la fattoria di Louis. Speriamo. Scusa, c'è l'uscito a scappare. Scusa, speriamo. Siamo malati. No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi no. Non lavoravo in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Il diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina? Anche noi. Non abbiamo spazi. Ehi! Tira dritto. Dopo. Fermi! Un rip piccolo angelo. Azucco. Sai da una vista. Passare una con l'altra. Le macchine le potevano fare meglio. Le macchine le potevano fare. più o meno vedo più, come sembra che è strano. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passarmi, sopra. Dormiamo indietro. Ce ne sono anche indietro. Las, là, là. Aspetta. Vai! Andiamo! Oh, questo po' si fa male. Puttana, c'è bambina. Ma muori bambina, è una merda. Oh, c'è bambina, c'è bambina. Gli ammazzò famiglia. Oh, c'è bambina. 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 Sono qui. Forza, dammi la mano. Forza. Che c'è? Corri ragazzo! Devo scanzarmi! Sì bravo quanto odio quando si mettono avanti! Guarda! Guarda che stronzo! Continua a tocare di noi! Di qua! Corri! Mi usciremo! Baffa qui! Di dietro! Sono troppi! Da questa parte! Nel piccolo! Ah già lo sapevo! La prima volta sono morto! È morto! Ci siamo morti! Muovetevi! Trovate una via di uscita! Forza! 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 Non so, piccola, non so. Sara. Amore. Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non so. No. Non corro. No. 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 Ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Mi forno. The last of us, signori. The last of us. E con questo io vi saluto. Ci vediamo la prossima. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Allora, finiamo questa parte. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Certinaia, certinaia di porti sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preverato dall'organizzazione. è vero che lui dovrà fare i tagli. Più, 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 più belle. Quindi, è facilissimo di darlo. Magari ci scompa la voce. Aggiungo la intro. A poi, per il delatto, qua, l'altro. Che è qui. E lo carico adesso, arsione, massione. Un gruppo che si fa chiamare le luci, ha rivendicato la paternità di entrambi gli attagli. Le luci, mi penso che un clan non è molto buono, tra quello che mi ricordo, però non ho mai giocato nei prossimi tempi o sei quattro, in questo caso. Però ho visto che fare qualche episodio da... Da very good, da un caldo a step, quindi... Sto parlando di tantissimi anni fa, la PlayStation 3. Credene le luci, non voglio crederci. Da questo io vi saluto. Grazie a tutti.